Il Vangelo di oggi ci dà l'occasione di meditare un po' sulla fede, che cos'è, come si misura, come si determina e ci aiuta in questo anche oggi. Padre Ernesto della Corte, ben trovato, buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana a tutte le nostre amiche, ai nostri amici, a te, a Nambia, ai nostri tecnici, al nostro regista. Sì, hai ragione, è proprio il tema centrale di questa domenica, dopo che domenica scorsa abbiamo gustato quella bella parabola di Lazzaro e di questo ricco senza nome, la fede. Perché è così fondamentale il credere? Perché ci insegna Gesù nel Vangelo di Luca è una possibilità di superare i nostri limiti, è una risposta al bisogno di libertà, di quell'infinito che ci portiamo nel cuore. Oggi è importante partire anche dalla prima lettura del profeta Abba Kuk, dove troviamo un testo che tanto piace al nostro Paolo. Il giusto vivrà per la sua fede. Paolo, a partire da questo testo così importante, ricorda che il giusto vive per la fede. Significa che si è giustificati, cioè si è in una buona relazione con Dio, solo mediante la fede di Gesù Cristo. La fede non è una generica adesione, una generica fedeltà a Dio. È un'adesione particolare, precisa. Paolo lo dice nel capitolo 4 dei Romani al versetto 25. Gesù Cristo è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Ripeto, giustificazione è una buona relazione con Dio. Noi non siamo capaci di avere una buona relazione con Dio. È la grazia, è lo spirito che ci aiuta. Ecco perché Luca nel suo Vangelo parla spessissimo della fede. La fede che guarisce il paralitico, la peccatrice in casa di Simone, l'emorroisse, il lebroso straniero che torna. Poi più avanti vedremo il cieco di Gerico, Zaccheo. Ecco, la fede è necessaria davvero per la nostra vita. Ma che tipo di fede bisogna avere? Spesso Gesù usa questa frase che colpisce. La tua fede ti ha già salvato. Che vuole dire con quell'espressione dopo che ha concesso un miracolo? Non intende dire che è la fede dell'uomo che salva, ma che la potenza di Dio agisce attraverso l'atto di fede. Quindi l'atto di fede, potremmo dire, è la condizione, lo spazio in cui il Signore interviene. Perché senza la fede, in un certo senso, la potenza di Dio si annulla. Avere fede significa riconoscere la propria impotenza. E al positivo significa porre fiducia nella potenza del Signore. Perché la fede è un dono che dobbiamo sempre accogliere, che dobbiamo vivere, ed è una chiamata che vuole una risposta. Ecco perché oggi il testo del Vangelo, noi lo leggiamo solo dal versetto 5, io in verità consiglio di leggere tutti i dieci versetti del capitolo 17, comincia con questa affermazione dei discepoli. Accresci in noi la fede. Anzi, letteralmente il testo greco dice aggiungi a noi la fede. È un insegnamento sulla vita comunitaria. Perché la Chiesa ha proprio la missione di continuare nella storia quello che ha cominciato il figlio di Dio. E ci sono in questi primi dieci versetti, ecco perché consiglio la lettura integrale dei dieci versetti, c'è innanzitutto il tema degli scandali. E quindi è importante. Il tema degli scandali significa essere di inciampo agli altri e quindi c'è bisogno di correzione fraterna e di perdono. Il secondo tema è la fede, quello di oggi, e il terzo è il servizio. Il primo tema è quello dello scandalo. Scandalizzare un fratello significa essere di ostacolo sul suo cammino. Questo comporta la perdita della fede e anche della rottura dei rapporti fraterni. Gesù addirittura usa un'immagine molto forte, iperbolica. Sarebbe stato meglio per lui che gli fosse attaccata al collo una pietra da macina. È un'immagine che fa vedere la morte per annegamento. Sarebbe stato meglio per lui, è vantaggioso. È un iperbole, è un modo molto iperbolico di parlare. Che vuole dire Gesù? Che quella morte sarebbe stata molto meglio piuttosto che rompere il rapporto col fratello e scandalizzare, quindi farlo errare. Che cosa c'è dietro questa prima istruzione? C'è la preoccupazione di riprendere in mano, cara Anna Maria, la responsabilità. Non dobbiamo fare come Caino. Noi dobbiamo essere responsabili degli altri. Quindi non solo dobbiamo vigilare su noi stessi, ma dobbiamo saper vigilare su quei conflitti che possono nascere nella comunità, ma dobbiamo saperli gestire e superare. Ecco perché Gesù consiglia tre piccoli passi. Rimprovera tuo fratello. Accogli la sua conversione. Perdonagli con tutto il cuore. Perché la comunità cresce, prospera, grazie al perdono di Dio e a quello fratello. La comunità cristiana è fatta di poveri peccatori. Tutti dobbiamo chiedere perdono. Tutti dobbiamo convertirci. Solo così la comunità è unita. E allora esce la seconda istruzione. Accresce, aggiungi in noi la fede. Notate che Gesù, cari amiche e cari amici, non risponde a questo invito degli apostoli. Non dà una risposta immediata, diretta, ma risponde con un iperbole. Dicendo che una fede, pur minuscola quanto un granello di senape, può compiere cose meravigliose. Potreste dire, il testo è molto bello, potreste dire a questo gelso, dice il testo, sradicati e piantati nel mare. Che vuole dire qui questa piccola parabola? Si scrive nella cultura anche dell'epoca. Gesù vuole farlo capire dicendo che ritorna a quell'immagine del piccolo. La fede, pur piccola, può generare dei grandi frutti. E per farlo capire meglio, Gesù usa un'altra parabola, quella del servo e del padrone, che si inserisce nel contesto sociale dell'epoca. Che vuole dire? Ecco la terza istruzione, il servizio. Quando lo schiavo, che a quell'epoca era considerato proprietà del padrone, quindi il padrone lo impiegava nei campi di giorno a sera, quando ci si ritirava per cenare, evidentemente lo schiavo, prima di poter prendere il cibo per sé, doveva servire il padrone. Nessun padrone lo avrebbe dispensato da quello che è il suo lavoro. Quindi gli competeva lavorare nei campi a sera, servire il padrone. Era normale così a quell'epoca. Quindi è ovvia la risposta. Quasi a voler dire che il padrone sa che lo schiavo deve fare quello e lo schiavo sa che non deve attendersi null'altro, deve mettersi a servire il padrone e solo dopo potrà mangiare. Ecco perché usa questa espressione, Gesù, un po' strana. Quando anche avete fatto tutto quello che vi è stato comandato, dite siamo servi inutili, così il testo italiano. Ma nel testo greco c'è un aggettivo, akreios, che significa non utile, che ha un carattere paradossale. Qui Gesù usa un'immagine paradossale. Che cosa vuole dire qui? Gesù vuole dire guarda quando hai fatto tutto, ricordati di una cosa, metti un freno alla tentazione di vantarti, non darti delle arie. Perché c'è una tentazione che può toccare tutti nella comunità. Non darti delle arie, non pensarti superiore. Hai fatto quello che dovevi. In un certo senso potremmo dire che, qual è il senso paradossale che sta dicendo Gesù? Potremmo anche tradurlo così. Quando hai fatto tutto quello che ti è stato comandato, tu devi dire solo, siamo soltanto dei servi. Abbiamo servito. Quanto è stato realizzato è dovuto all'appartenenza a Cristo. Il servizio a cui siamo stati chiamati è sempre generato dalla fede e deve essere gratuito. Quindi non darti arie. Hai fatto quello che dovevi. Rimani nell'umiltà. Direbbe il grande Ambrogio nell'esposizione al Vangelo di Luca. Non dobbiamo pretendere di lodarci da soli. Come sono stato bravo. Quanto sono utile. No, no, no. Non dobbiamo sentirci migliori. Non dobbiamo prevenire troppo presto il giudizio di Dio, dice Sant'Ambrogio. Non dobbiamo anticipare la sentenza del giudice. Ma dobbiamo abbandonarci al suo amore. Quando anche abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto solo quello che ci era stato chiesto. Niente di più. Rimaniamo nell'umiltà. Tutto è dono. Tutto è grazia. Direbbe il grande Paolo. Mi viene chiesto proprio di imitare il suo esempio e di fare come lui. Essere pronti e attenti alle necessità dei fratelli. Senza pretese. E senza insomma avere un premio. Perché sai, ma anche nel fare il bene c'è sempre la tentazione di voler primeggiare. C'è gente che fa l'elemosina per sentirsi a posto, per essere lodata. C'è gente che poi vuole essere messa nella tavola di gratificazione del parroco perché ha dato tanti soldi alla parrocchia. Non sappia la destra quello che fa la sinistra. Davvero oggi anche il Salmo ci aiuta. Il Salmo della liturgia. Che dice così, Salmo 94 al versetto 6. Davanti a Dio venite, prostriamoci. Il Creatore in ginocchio dobbiamo adorare. Tutto è dono, tutto è grazia Anna Maria. Quanto anche abbiamo fatto tutto e l'abbiamo fatto bene è grazie a Dio. È questa piccola disponibilità che il Signore ricompenserà. Ma non dobbiamo vantarcene. Nei dobbiamo mai metterci nemmeno una spanna al di sopra degli altri. Questo ci porta a vivere il senso della gratuità nella comunità. C'è un pareggio nella comunità. Una cosa molto bella. Mai fare il bene facendolo diventare un potere. È sempre una grande tentazione. E purtroppo si nasconde bene anche nelle nostre comunità. Quindi possiamo riassumere con tre parole. Amore, servizio e soprattutto gratuità. È qui che si gioca la nostra vita di fede. Eppure noi potremmo fare così Anna Maria. Noi facciamo solamente un servizio. Ne ringraziamo Dio. Lo diciamo alle nostre amiche e ai nostri amici. Perché credo che sia l'esperienza anche per te. Per i nostri registi. Per Vito. Ma anche per me. Questa parola prima di darla agli altri ha dissetato noi. Quindi il Signore dona a piene mani. non dobbiamo pensare che siamo stati noi. Ti ricordi domenica scorsa abbiamo ripreso le conversazioni in Bibbia. Non è merito nostro. Anzi è un dono che il Signore ci fa. Ed è un dono anche il servizio che fa Teleradio Padre Pio. Anche questa è una grazia per arrivare nel cuore della gente e nelle case dei nostri amici e delle nostre amiche. Confermo. Confermiamo. Ed è soprattutto grazie a te che abbiamo di nuovo come dono questo momento. Allora noi ci ritroviamo la prossima settimana. Ovviamente auguriamo a tutti coloro che ci seguono una buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana e buon ottobre missionario. Quindi ricordiamo quello che dice il Papa. La Chiesa è extravertita. Deve uscire fuori perché deve andare verso gli altri. Altrimenti ci chiudiamo nel piccolo circolo e non siamo più Chiese ma soltanto un gruppuscolo umano. Buona Pasqua della settimana a tutti quanti voi. Shalom. Shalom. Grazie a tutti.